Nuova puntata, puntata molto particolare perché di solito si raccontano le cose positive, i successi, i guadagni. Questa volta invece parlerò di una perdita di un guadagno. Infatti nei miei swing trading per la prima volta, diciamo da un anno a questa parte, è la prima volta che ho venduto un'azione con una bella perdita, la prima perdita che ho fatto con i swing trading. E questo a conferma di quello che ho sempre detto, cioè che quando si comprano azioni singole, quando le cose vanno male, bisogna vendere. Almeno per l'orizzonte temporale che si ha, lo swing trading ha un orizzonte temporale, almeno il mio, di 3 o 4 mesi. E quando le cose vedi che ahimè vanno male, bisogna vendere in perdita. Sia ben chiaro, in totale comunque sono sempre in positivo, o una bella media, sia il totale che la media, rimane il fatto che quando succede a nessuno fa piacere. Ma la differenza tra uno che ha esperienza nell'investire e uno che non ce l'ha è proprio quella di vendere. Anche perché nel caso dello swing trading non ci sono di fatto degli stop loss. Perché? Perché non è un trading tradizionale lo swing trading, ma è un trading che si muove su 3 o 4 mesi, come dicevo. Quindi non è proprio facilissimo gestirla. Anche perché se il trend non è un trend positivo, è bene, puoi incappare veramente in brutte perdite. In questo caso una piccola azione del Nasdaq che ahimè non ha fatto quello che pensavo molto semplicemente. E nonostante sia una bella azienda e creda nell'azienda, ripeto, la strategia prevede molto semplicemente che ci sia un lasso temporale molto ridotto. E questo vi dicevo a conferma di quello che dico sempre. Quando si comprano azioni singole è più importante dal mio punto di vista saper vendere che comprare. Infatti una delle cose che si fa più facilmente quando si investe è comprare azioni singole. C'è quasi una corsa a comprare azioni singole senza aver analizzate bene. E nonostante tu le analizzi bene, ti può capitare molto semplicemente che quell'azione comunque non va bene. Almeno per un bel po' di tempo. Se non anche più lungo. Basta ricordare quante volte un grande investitore, anzi quello che viene considerato l'investitore migliore al mondo, e cioè Warren Buffett, nonostante le sue analisi, abbia dovuto ammettere che ha dovuto vendere delle azioni in perdita. Perché? Perché semplicemente qualcosa era cambiato. Basta ricordare un anno fa con tutte le azioni che riguardavano il reparto del turismo, o meglio del turismo, degli aerei, le compagnie aeree. Quindi non più le compagnie aeree che il turismo, per essere precisi, perché non è che le due cose sono proprio collegate, visto che in America si prende l'aereo per tanti altri motivi, non solo per il turismo. Fatto sta che gli ha dato una bella perdita di 50 miliardi, anche se all'ultimo meeting che c'è stato della Bercher ha detto che molto probabilmente è stato un po', diciamo, ha fatto un mezzo sbaglio, l'ha definito lui, diciamo che forse è stata un po' una vendita frettolosa. Anche qui è da riflettere perché se a 90 anni uno che ne ha viste di cotte e di crude fa una cosa del genere, ebbene si capisce che siamo semplicemente umani e proprio per questo la riflessione che poi sostanzialmente volevo fare è non fidatevi di chi dice che praticamente guadagna sempre, anzi al contrario fidatevi di chi dice che ci sono stati degli sbagli e che la cosa più importante poi è non rifare gli stessi sbagli perché sbagliare è umano appunto ma perseverare è diabolico come dice il proverbio. Quindi questo è un altro aspetto dell'investimento quando si fa chiaramente stock picking o comunque quando ci si investe sul breve periodo, come ho detto proprio cambia la strategia, la mentalità quando si investe sul breve periodo perché la cosa principale è quella di guadagnare di più di tutte quante le azioni poi che vendi in perdita, questo è quello che si deve fare principalmente, questo poi vale sai come pure come concetto generale quando si investe, fatto sta che prima ci si abitua dal mio punto di vista a perdere in borsa, meglio è prima si fanno sbagli, meglio è prima si fanno esperienza, meglio è perché di solito quando incominci hai capitali minori di quelli che avrai da qui a dieci anni quindi è ovvio che sbagliare con un capitale piccolo è molto meglio che entrare nel mercato e sbagliare con un capitale grosso o con un capitale che in futuro sarà molto più grosso poi c'è chi eredita cifre alte, si butta direttamente sul mercato e lì la cosa migliore dal mio punto di vista è farsi assistere il prima possibile da una persona esperta, ci sono i consulenti bancari, i consulenti indipendenti ci sono vari profili che possono aiutare queste persone anche sul web o oltre a fare dei corsi quindi ce n'è di tutto di più, la cosa principale in questi casi dal mio punto di vista è quello di non fare mai da solo perché come ho detto prima ci sono fiori di professionisti come il più grande di forze di tutti i tempi come Warren Buffett che nonostante tutta la sua esperienza sbaglia, figuriamoci se tu non ne hai esperienza e ti vai a cimentare nelle azioni singole beh il rischio di farti male è praticamente matematico tant'è che lo stesso Buffett poi consiglia a una persona che entra nel mercato di non buttarsi mai sulle azioni singole ma di prendere per esempio degli ETF, questo è il suo consiglio principale che tra l'altro è come al solito è un consiglio saggio perché poi dove si forma alla fine Buffett quando diciamo fa i suoi investimenti si forma sulla sua saggezza fondamentalmente, cioè sul suo buonsenso quindi cerca fondamentalmente di non fare il passo più lungo della campa, giusto per ritornare a dei proverbi questo devo dire la verità, non è che ha premiato moltissimo gli investitori che hanno agito diciamo con cautela nell'ultimo anno anche Buffett l'ha ricordato che forse si è affrettato un po' troppo a vendere quelle azioni e generalmente anche negli ultimi dieci anni dove il mercato ha performato davvero 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 tanto e chi ha rischiato in questi ultimi dieci anni beh direi che il gioco ne valsa veramente la candela basta pensare a tutti quelli che hanno investito nei mercati growth rispetto a chi ha investito nei mercati valve basta vedere tutti quelli che hanno investito in strumenti molto volatili, molto rischiosi come il Nasdaq o altri asset come per esempio le criptovalute rispetto invece a chi ha investito in obbligazioni giusto per citare un altro asset e potrei andare avanti così come sarà il futuro? Ebbè questo lo vedremo se vinceranno quelli che avranno dei portafogli equilibrati o quelli ancora che rischieranno fatto sta che se si segue una pianificazione, se si segue una strategia almeno sai come stai giocando è un po' come preparare una partita di calcio, sapere i ruoli che bisogna affrontare e giocarsi la partita già bella, pronta e preparata in un determinato modo a differenza di andare in campo così senza regole, con un po' di anarchia ebbene molto probabilmente anche se sei più forte rischi sinceramente di perdere rispetto a una squadra molto molto organizzata che sa quello che deve fare e con questa ultima riflessione vi ricordo il mio su Intrading appunto su patreon.com slash cambiaretutto il sito su intradingitalia.com il gruppo cambiare tutto, cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza e con questo ragazzi è proprio tutto a me non resta che ricordarvi che come al solito siete sempre sotto il fuoco nemico